A coltellato l'addome è lasciato sanguinante a terra nel bel mezzo della piazza, ma le forze dell'ordine sono arrivate in tempo e l'aggressore è stato arrestato dai carabinieri. È successo ieri sera, intorno alla mezzanotte, la vittima dell'episodio è un 23enne pakistano portato d'urgenza all'ospedale di Cattinara. L'aggressore, un coetaneo, anche lui di origine straniera. Il teatro della violenza, ancora una volta, Piazza Goldoni. Non si conosce con precisione la dinamica dei fatti. Un litigio per futili motivi, forse alimentato dall'abuso di sostanze alcoliche. Sta di fatto che improvvisamente il cittadino straniero ha estratto il coltello e colpito all'addome il 23enne pakistano. Una coltellata al fianco che ha reciso l'arteria addominale, provocando una grande fuoriuscita di sangue. L'aggressore avrebbe tentato la fuga, ma le forze dell'ordine erano già state allertate. Una gazzella dei carabinieri si trovava nei paraggi per un servizio di controllo, visti i tanti episodi di violenza che hanno reso tristemente famosa Piazza Goldoni. I militari dell'arma hanno raggiunto il giovane aggressore e lo hanno arrestato. La vittima invece è stata a soccorso e portata d'urgenza all'ospedale di Cattinara in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita. Il 23enne è stato operato nella notte e si trova ricoverato nel reparto di chirurgia con una prognosi di 40 giorni. I carabinieri stanno provvedendo a visionare le immagini di videosorveglianze della zona per chiarire l'esatta dinamica dell'episodio. La procura ha aperto le indagini per tentato omicidio. Titolare del fascicolo, il pubblico ministero Lucia Baldovin. Parish per invitori! Parish per arrivato! Parish per introd sound!